Ci vuole la volontà, per fare questo mettetevele in testa, poi ognuno avrà le sue idee politiche e ha votato una cosa o un'altra Dobbiamo vincere le elezioni, questo dobbiamo fare, non c'è altra strada Ma stiamo sulla strada giusta Vi dico solo due cose divertenti Oggi l'hostess, ho preso l'aereo all'Italia Mentre spiegavano, c'è sicurezza, stanno lì e là, si girano Non mollate, non mollate Ci sono i poliziotti che lavorano davanti a Palazzo Chigi Che poi sono vestiti bene, con dei mantelli Ogni volta che passiamo lì davanti, io passo, cammino con i miei colleghi Questi devono stare immobili, io mi giro Continuate così Vi lo giuro Alessandro, il legislativo del PD in difesa Si stava ragionando di una cosa Ci ha pensato da parte e mi ha detto Mandateli a casa Cioè, quelli che lavorano negli uffici del PD Ci dicono, mandateli a casa, sono degli incapaci È solo questione di tempo Però dateci una mano, ma è solo questione di tempo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.